Com'è questo qua? Com'è questo qua? C'è un pochino i figli. Vediamo in mezzo, ci sarà anche Gianfranco Fini che non ci sente più italiano. Assolutamente sì. Giù, giù. vediamo una bionda una bionda con la tenta un po' di fuori non si gira per voi utenti di Youtube non riesco diamo il culo almeno Maldini applausi non riesco diamo il culo almeno e non riesco diamo il culo almeno e non riesco e non riesco applausi 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 e non riesco applausi e non riesco applausi applausi e non riesco e non riesco applausi applausi